Buonasera cari amici, benvenuti a Dopocena, cari telespettatori di FanoTV, come sempre in questi salotti ospitiamo argomentazioni e disquisizioni le più svariate che variano sui vari aspetti della nostra vita quotidiana. Uno degli elementi salienti della nostra quotidianità è l'alimentazione e il cibo, è ciò che introduciamo nel nostro corpo e qualcuno disse un po' di tempo fa che noi siamo quello che mangiamo, ma in verità fu più vera di questa perché effettivamente poi gli effetti di ciò che noi usiamo per alimentare la nostra macchina, il nostro motore poi ha delle risposte, delle conseguenze. Questa sera parliamo di un cereale, di un alimento e di una trasformazione che questo cereale ha grazie all'inventiva e alla voglia di sperimentare di un artigiano del nostro territorio. Allora nella inquadratura larga già avete visto i nostri ospiti, li introduciamo, li salutiamo. Allora nel fondo del divano, laggiù in fondo, c'è la biologa nutrizionista Roberta De Santi. Buonasera. Buonasera. Ben arrivata. La prima volta, debutto assoluto sui divani di Dopocè. Sono comodi, si sta bene? Sì. Bene. Ok, e poi accanto a lei un panificatore, posso usare questo termine, panificatore, con orgoglio, di insomma tradizione e di spessore, Mario Pierleoni, Archilei, tra parentesi conosciuto forse in quel di Fossombrone più con questo. Sì, l'azienda è di Fossombrone. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Titolare della Casa del Pane, è un forno che ha imboccato una strada, una via. Allora abbiamo già introdotto parte dell'argomentazione, parleremo appunto di questo alimento così importante nella nostra dieta, nella nostra dieta sia mediterranea che è anche insomma mondiale. Il pane è forse uno dei fondamenti della nostra, ci sarà più utile insomma il parere della biologa. Allora però Mario io voglio partire da lei. Certo, certo. Tanta tradizione, tanto pane, tanto forno, tanta farina. Sì, è un'azienda nata nell'ultimo scorcio dell'Ottocento addirittura da mio nonno che da piccolo viene avviato a questa attività e poi nel corso dei decenni, nel corso dei secoli quasi quasi direi, si è specializzata inserendo, ma vorrei raccontare anche dei fatti così abbastanza antichi. Mio nonno, con l'esperienza della produzione di panificatori di pane per l'esercito durante la prima guerra mondiale, fu questo che gli diede appunto la possibilità di conoscere tecniche, innovazioni, cose nuove che magari qui nella nostra zona non erano ancora recepite, introdusse per esempio successivamente per primo il pane al sale, anche se da noi ha una presenza marginale, però fu lui che appunto lo inserì. Per esempio l'origano mi raccontava mio nonno che allora nel 1910-20 era ancora sconosciuto dalle nostre parti, lui grazie a questa esperienza poteva inserirlo nella sua pizza e quindi questa tradizione, questa innovazione si è continuata ed è arrivata ai nostri giorni. Si dice che quando si respira da piccoli la farina, questa sensazione rimane poi per tutta la vita. Io in effetti fino a 20 anni fa, non sono pochi, ma fino a 20 anni fa non mi dedicavo all'attività di questa azienda di famiglia, facevo tutte altre cose, però ripeto l'aria della farina, il sentore, l'odore della farina mi ha coinvolto e quindi mi sono inserito, continuando questa tradizione che da una parte ha portato avanti i valori, ripeto, della tradizione, continuando con la panificazione normale del pane quotidiano che tutta la nostra zona consuma, ma inserendo ogni tanto, sempre di più comunque, delle novità e di cui la principale è il pandorzo, il pane all'orzo. È nato da una richiesta che la Politecnica delle Marche, Anni Orsono, ci fece per verificare la panificabilità, se era possibile fare del pane utilizzando della farina d'orzo, cosa che anticamente era presente anche dalle nostre latitudini, anche dalle nostre parti, ma poi negli ultimi decenni si era completamente persa. Allora svolgemmo delle prove, l'università ci portava diversi tipi di farina, con ognuna di quelle facemmo delle prove, fino a ottenere un risultato che per quanto riguarda il quantitativo di farina d'orzo inserito nel pane, per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche, è senz'altro un prodotto di elevatissimi contenuti. La dottoressa poi spiegherà dal punto di vista nutrizionale quali sono i vantaggi, quali sono i valori di questo pane, io dico solo che farlo non è stato facile perché l'orzo ha pochissimo glutine, non lievita l'impasto, quindi è stato necessario adottare, non dico tecnica particolare, ma proprio fare dell'esperienza su questo tipo di impasto per riuscire ad ottenere un pane sufficientemente lievitato. L'orzo è un cereale di cui si conoscono circa 200 varietà, di queste 200 varietà quelle che contengono il contenuto principe che fa appunto il valore nutrizionale di questo prodotto, i betaglucani, sono contenuti in appena 6 varietà e sono le varietà di orzo mondo o orzo nudo che si conoscono, quindi bisogna per dare un prodotto che risponda alle caratteristiche che noi cerchiamo, cercare questo tipo di orzo, ottenere della farina da questo tipo di orzo. Questo tipo di orzo non è neanche adesso molto presente nel nostro panorama agricolo, tant'è vero che la banca del seme di Tolentino che ha in un istituto che si chiama il Cermis, una banca appunto in cui contengono tutti i semi di tutte le varietà conosciute, ha all'inizio prestato un piccolo quantitativo di questo orzo mondo, si è fatto una coltivazione sperimentale, poi negli anni successivi si è sempre più ampliata, facendo la mia azienda con dei coloni, con degli agricoltori, degli accordi in modo che la farina che ci veniva ceduta era garantita e veniva proprio da questo tipo di orzo, mentre in commercio quest'orzo non si trova, si trova soprattutto orzo vestito, l'altra alternativa di cui disponiamo di 193 varianti. Anche per esempio, non so, così sorvolando un attimo su altri ambiti, il caffè d'orzo fatto con l'orzo mondo, le minestre fatte con l'orzo mondo, ugualmente mantengono queste caratteristiche, queste proprietà che il pane dà. Quanto è durato questo percorso dall'idea alla realizzazione? Non so se qui ce ne hai portato uno, è questo? Sì, sì. Ecco, facciamolo vedere a favore di camera, perché Mario ci ha portato un cesto bellissimo pieno di tante cose buone che emana un profumo fantastico, però questo è il frutto della tua fatica. Questo è lui, questo è il pane all'orzo. Questo è il pane all'orzo. Dunque, io, a parte il primo coinvolgimento in cui abbiamo fatto questi tentativi e quindi abbiamo alla fine, siamo riusciti ad ottenere una ricetta ottimale, addirittura la regione Marche si era interessata perché voleva lanciare questo prodotto a livello regionale, coinvolgendo noi panificatori, coinvolgendo gli agricoltori e quindi avere veramente un prodotto esclusivo per le Marche. Poi queste cose, l'assessore alle politiche agrarie di allora lasciò perdere la cosa, il gruppo che era stato costituito si perse e quindi nelle more di questo intervallo perdemmo 5 o 6 mesi. Poi, visto che appunto con la politica non si riusciva a procedere, ho deciso, visto che ero stato io l'artefice, di produrlo in proprio, addirittura il Tg Marche, Rai 3, quando venne a sapere dalla stampa locale che a Fossombrone veniva realizzato questo pane, venne all'improvviso nel nostro laboratorio, ci intervistò, volle sapere appunto la storia di questo pane e da questa trasmissione che poi pubblicò in un Tg Marche, io fu inondato di richieste da parte di panificatori di tutta la regione che appunto volevano sapere, volevano uscire, volevano entrare appunto in questo progetto. Va bene, poi faremo anche un altro excursus che riguarda la tua azienda, bellissime le spighe che ci hai portate, di un colore stupendo. Appena raccolte fresche e fresche, sono ancora verdi perché l'orzo ancora non è maturo. Perché ancora l'orzo non è maturo. Allora, dottoressa, con queste caratteristiche abbiamo per le mani un prodotto di grande qualità, insomma, che prodotto è, che caratteristiche ha dal punto di vista suo, insomma, biologico, scientifico? Certo, sicuramente intanto partiamo dalle caratteristiche comuni di qualsiasi altro cereale, quindi ovvio che, come tutti i cereali, l'orzo, il chicco, quindi la cariosside, ha una grande parte di amido e quindi principalmente ci serve per l'ottenimento di zuccheri, di cui poi parleremo nello specifico, e ha una parte di proteine che sono quelle che poi daranno luogo al glutine, anche se, come accennava poco fa il signor Pierleoni, nell'orzo abbiamo una qualità del glutine piuttosto bassa, per cui ottenere dei prodotti lievitati con questa farina è veramente complicato. È stata una bella impresa. È stata una bella impresa, sì. Infatti, chi ha qualche volta provato a panificare anche in casa con questa farina nota proprio che la pasta non è elastica come si ottiene invece magari con le farine di grano. Oltre a queste caratteristiche, appunto, di avere una grande quantità di amido, di proteine, anche ovviamente di qualità nella parte del germe, della cariosside, e poi c'è la parte esterna che è costituita da tutte le parti della crusca. Ora, queste sono le caratteristiche comuni a tutti i cereali, però in realtà l'orzo ha delle qualità nascoste proprio nella tipologia di fibre, che sono questi betaglucani, di cui è, diciamo, il maggior cereale che ne ha così tante. Si parla di un 7% in queste varietà di orzo nudo, mentre ne abbiamo solo un 5% nell'avena, un 2% nella segola e inferiore all'1% invece nel grano. Quindi la differenza è notevole. E proprio per, diciamo, le proprietà funzionali di queste fibre, che sono state negli ultimi decenni riconosciute anche dalla nostra EFSA, che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, da cui dipende, diciamo, lo screening di tutta la letteratura scientifica, e da cui dipendono poi le autorizzazioni della comunità europea all'utilizzo di alcuni messaggi di funzionalità. E quindi grazie a questa letteratura in merito a questi betaglucani è stato un fiorire anche di prodotti funzionali a base d'orzo, anche a livello, diciamo, industriale. E questo sicuramente ha spostato anche un po' l'utilizzo dell'orzo, che prima principalmente veniva utilizzato a livello zootecnico, no? Quindi per gli animali, in parte per, sì, come cereale maltato, per la produzione di birra e whisky. E oggi, come oggi, c'è tanta la richiesta di orzo per la produzione di alimenti funzionali, come questo pane d'orzo. Ecco, non bisogna però scambiare un pane d'orzo funzionale con un pane d'orzo comune, perché questo mi capita anche abitualmente con i pazienti in studio, i quali riferiscono di trovare varietà di pane d'orzo in varie produzioni. Il problema è che se l'orzo è in minima quantità e non è delle tipologie giuste, non si può definire un alimento funzionale, il pane. Quindi la differenza è proprio questa, perché come tutti gli alimenti funzionali ha bisogno di una dose efficace. Tanto è vero che, come dicevo prima, l'autorità di sicurezza alimentare europea ci dice che il contenuto di betaglucani deve essere almeno di un grammo per porzione di alimento e deve essere un alimento che normalmente non fa male. Quindi è inutile, ad esempio, caricare betaglucani in un alimento di cui dobbiamo ridurne la frequenza settimanale o giornaliera. Per cui utilizzarli sotto forma di pane, questi betaglucani, è veramente interessante, perché è appunto un alimento comune, come potrebbe esserlo nella pasta. Quindi l'idea è stata un'idea illuminante, molto vincente. Un'idea veramente, sì, lungimirante. Noi spesso abbiamo, spostandoci su altre tipologie di alimenti, questa, stando un po' dalla parte dei consumatori, questo dilemma, no? Vediamo le scritte al farro, all'orzo, integrale, semi-integrale, e ci perdiamo un po' in queste. Sarebbe utile, ecco, conoscere appunto queste giuste quantità e giuste percentuali per orientarci anche nei nostri acquisti. Adesso vorremmo il forno di Pieleone tutti sotto casa, perché chiaramente, però questo dovrebbe essere importante. Sì, è un prodotto che può utilizzare, proprio per le sue caratteristiche, questi messaggi sulla salute che vengono regolamentati, tra l'altro da una legge europea, che è la 1924 del 2006. Quindi ricadrebbe in questa normativa e può contenere dei messaggi salutistici, quali la riduzione dei livelli di glucosio post-prandiale, quindi una riduzione della glicemia dopo il pasto, e anche un mantenimento dei livelli normali di colesterolo. Quindi sono i due claim di funzionalità che questo prodotto può vantare e a cui bisogna, ecco, abbinare un'etichetta nutrizionale adeguata, perché quando si fanno dei messaggi sulla salute, e giustamente è bene non ingannare il consumatore, quindi ci vuole una corretta etichettatura del prodotto. Ecco, lei, dottoressa, lo utilizza, immagino, anche per le diete che commissiona i suoi pazienti. Sì, devo dire che sono fortunata ad avere nelle mie vicinanze questo forno, perché non contenta delle diete che normalmente formuliamo per l'ipercolesterolemia, perché hanno poca efficacia normalmente. E quando i medici cominciano a dire di limitare le carni rosse, di limitare i formaggi, magari talvolta anche le uova, si dice, si fa fatica ad ottenere una dieta che possa essere mantenuta come dieta per la vita. Ecco che sono andata un po' a cercare un'alternativa, quindi ho cercato di formulare la mia dieta, che ho chiamato dieta funzionale per ipercolesterolemia, ho mantenuto, diciamo, una dieta mediterranea, quindi con un modesto contenuto di carni rosse, ma anche formaggi, diciamo un po' onnivora o vegetariana, per chi voglia scegliere, diciamo, questo percorso più etico. E a quel punto però ho aggiunto degli alimenti che avevano una funzionalità per abbassare il colesterolo, quali appunto i beta-glucani ottenuti attraverso una sostituzione del pane bianco con il pane all'orzo e attraverso anche un'integrazione con degli omega 3 provenienti sempre da alimenti, quindi da semi oleosi e pesci anche, un utilizzo corretto del minimo dell'olio d'oliva, cioè c'è una dose minima, anche qui efficace. Quindi non ho fatto altro che utilizzare l'ingredientistica che normalmente utilizziamo negli integratori, però fatta con gli alimenti. Ecco perché questa dieta funzionale, che tra l'altro mi ha portato a dei risultati veramente straordinari, perché in tre mesi una riduzione del colesterolo cattivo, di LDL del 21% e passa per cento, ha fatto veramente inorgoglire me, ma anche i medici che avevano scelto per i loro pazienti questo tipo di percorso dietetico, perché non tutte le persone vogliono affrontare da subito un percorso di dieteterapia farmacologica, per cui ecco è una scelta ovviamente obbligata in alcune situazioni, ma insomma nelle situazioni borderline ecco una dieta corretta è più vantaggiosa, oltretutto se è fattibile, piacevole, insomma, mangiando prodotti assolutamente buoni. E poi non dico quasi a chilometro zero, ma quasi ci siamo. Adesso dopo ritorno da lei, che le voglio chiedere un paio di cose, visto che comunque siamo sotto estate, quindi sulle diete, va bene. Mario, le sta dando tanta soddisfazione questa intuizione, questa idea, a parte la fatica iniziale. Sì, senz'altro, certamente dal punto di vista reddituale, economico dell'azienda, ma soprattutto dal punto di vista della soddisfazione personale di essere riusciti a creare qualcosa di unico, che viene addirittura ricercato e consigliato e utilizzato in ambito scientifico. A questo proposito volevo aggiungere due notazioni. L'inizio della produzione del pane all'orzo, all'inizio della produzione, io contattai il reparto di diabetologia dell'ospedale di Urbino, che allora era diretto dal dottor Vasta, il quale accettò di buon grado la mia proposta di fornirgli gratuitamente il pane all'orzo, che lui diede in somministrazione ai suoi pazienti, un giorno e il giorno dopo dava pane bianco e così via per parecchio tempo, provando con prelievi appunto del sangue la misurazione della glicemia e su questo ha pubblicato una ricerca che dava ragione alla letteratura scientifica che già questo fatto era acclarato. Però lui lo ha dimostrato proprio sui suoi pazienti. Questo è stato il primo segnale che ci ha... E su questo pane. E su questo pane, certo. Soprattutto perché la letteratura sull'orzo... E questo è il primo, appunto, appunto. E questo è il primo fatto. Il secondo fatto è questo. Il professor Canestrare, che allora dirigiva la facoltà di Biologia, il dipartimento, sì, di... Credo dell'Università di Urbino, chiese se era possibile analizzare dal suo punto di vista queste provette, centinaia di provette, perché tre prelievi al giorno, per tanti pazienti, per tanti giorni, alla fine si era riempito un frigorifero di provette. E lui le analizzò per la prima volta dal punto di vista dello stress ossidativo. Cioè voleva vedere se chi mangiava pane all'orzo subiva di meno gli effetti dello stress ossidativo, cioè quella perdita, quella spossatezza che si ha dopo pranzo, rispetto a chi mangiava invece un'alimentazione che si alimentava normalmente con pane bianco. e la riduzione delle molecole che creano, poi la dottoressa sarà chiaramente molto, no, no, sicuramente più... meglio di me nell'esporre queste cose, dimostrò e pubblicò su riviste internazionali, dopo un vaglio scientifico, i risultati di questa sua ricerca, che fu una delle prime al mondo, dove dimostrò appunto che i radicali liberi si sviluppano molto più lentamente, in minor quantità, mangiando pane all'orzo. Questa era la seconda annotazione appunto che volevo dare. Come mai questo risultato è così eclatante? Quali sono i meccanismi che stanno alla base di queste evidenze scientifiche? Sì, praticamente notarono una riduzione della maloniel di aldeide, che è un prodotto di perossidazione lipidica, e anche una diminuzione dell'ossidazione proteica. Tutti i danni precoci di stress ossidativo che probabilmente sono legati anche alle grandi quantità di zucchero che arrivano dopo il pasto nell'organismo, che se non tempestivamente, diciamo, entrano a livello cellulare, possono reagire poi con tante altre sostanze. In più, probabilmente, anche la quantità di antiossidanti presenti nello stesso pane può avere una sua rilevanza. Quindi, entrambe le cose, sia una riduzione della quantità di zucchero che arriva a livello plasmatico dopo il pasto, che è appunto uno degli effetti di questi beta-glucani, e sia anche la percentuale probabilmente di antiossidanti presenti comunque, perché comunque come vitamina E, come carotini, anche nel chicco d'orzo sono presenti. per cui anche questo è stato importante. Abbiamo accennato l'ipercolesterolemia prima, l'ha accennato lei come utilizzo anche, insomma, è bersaglio di questo. Purtroppo è, insomma, l'osservatorio nazionale ci dice che è un problema veramente molto presente nel nostro paese, perché più di un terzo della popolazione ha livelli di colesterolo al di sopra di 240 mg decilitro, quindi effettivamente si tratta di ipercolesterolemici e molti non lo sanno. Non lo sanno. Che è asintomatico. Sì, appunto, è asintomatico, quindi uno se... Anche il diabete è una patologia che comunque con l'utilizzo di questo alimento ha un beneficio, no? Anche il chicco d'orzo stesso ha questo tipo di valenza, tanto è vero che lo si consiglia, infatti, perché ha un indice glicemico molto basso. Tra l'altro, devo dire che io propongo l'utilizzo di cereali in chicchi anche in sostituzione della pasta, perché hanno un effetto saziante molto elevato, dovuto al fatto che in cottura si idratano molto e in più bisogna masticarli a lungo, più della pasta, e questo determina sicuramente un aumento della sazietà. Per cui, ecco, se 60 g di pasta, diciamo, sono veramente pochi, 60 g di cereali in chicchi come orzo, farro, risa integrale possono essere sazianti, per cui questo è un consiglio. Bene, insomma, ci sono tante possibilità per sfruttare le proprietà di questo cereale, naturalmente, a patto che sia orzo mondo, perché solo questo mi sembra più che giusto, per avere, naturalmente, come sempre, una risposta ottimale in termini proprio di scientificità e soprattutto dal punto di vista medico e anche sanitario per la nostra salute. Ma la dottoressa saprà sicuramente darvi le giuste direttive. Mario, voi però non fate solo pane all'orzo, cioè avete tutta la gamma possibile immaginabile. Dicevo prima, nel rispetto della tradizione, abbiamo continuato a portare avanti i panni tradizionali che la nostra zona consuma, però negli ultimi, seguendo le evoluzioni, seguendo il mercato, seguendo appunto le necessità del consumatore, abbiamo inserito, ad esempio, quattro pani biologici, di cui uno è l'orzo. Dimenticavo di dire che è realizzato con farina biologica. Noi siamo accreditati come produttori biologici per quanto riguarda pani all'orzo, pani al kamut, pani ai cereali e pani al farro. Sono quattro tipologie di pani biologici. Poi, recentemente, ormai da tempo anzi, abbiamo inserito due tipi di pane con lievito madre, senza utilizzo di lievito di birra. Un pane comune con farina bianca biologica, anche in questo caso, ma questo non è certificato, perché... E un pane integrale con pasta madre, entrambi realizzati con pasta madre. Quindi con le caratteristiche di digeribilità, di profumo, di durata, di questi due pani. Per ultimo, la curcuma, la curcuma, che viene molto utilizzata in cucina e ha delle caratteristiche sorprendenti anche lei per tutti i benefici che apporta l'organismo. Abbiamo anche qui realizzato un pane con l'inserimento di questa spezia. Io ho mangiato recentemente una pizza con la farina alla curcuma ed è buonissima e veramente dalle caratteristiche anche di sofisticità particolari. Insomma, voi come i pasticceri vi divertite a creare? Beh, certo, certo. Avete nell'estrosità il vostro punto di forza. È d'obbligo con il sistema diciamo del commercio attuale se si rimane fermi, immobili con le solite produzioni si è sorpassati da altri e quindi è d'obbligo essere sempre... Tipico dell'artigiano creare, inventare e quindi proporre nuove alternative. Quando poi l'inventiva e come dice si dice il buzzo si sposa anche con ricerche scientifiche e studi mirati abbiamo insomma il massimo. La nostra dieta è una bella dieta dottoressa insomma non vi viene difficile se stavate in Scandinavia era un po' più difficile trovare le robe è vero immagino non lo so No, no viviamo in una zona veramente incredibile perché proprio perché non si poteva fare anche agricoltura intensiva abbiamo puntato sul biologico e questo veramente ci aiuta molto anche a utilizzare l'economia locale quindi favorirla quindi importante anche questo dal punto di vista etico non soltanto il discorso no animali ma insomma tutto l'uomo Questo pane con queste caratteristiche necessita delle stesse quantità dell'altro pane per essere calibrato sulle diete oppure qui si può giocare anche sulle sue caratteristiche per Allora diciamo che proprio per il fatto che è stato ottenuto con un 60% di farina d'orzo io riesco a rimanere in un quantitativo normale che va bene anche per una dieta ipocalorica di circa 100 grammi al giorno da ripartire tra la colazione pranzo e cena e quindi insomma è funzionale ma rimaniamo all'interno di una dieta che può essere adatta a tutti dalla persona insomma che deve perdere peso alla persona insomma con una certa attività fisica quella è la quantità minima che mi serve per garantire questo quantitativo di beta glucani giornaliero però da lì poi si può anche aumentare sportivi anche vantaggi anche per loro insomma beh sì comunque diciamo che l'uniche persone a cui non si può adattare sono purtroppo le persone con la celiachia ah certo essendo un cereale con glutine con glutine per quanto poco però l'unico limite è questo l'unico limite è questo insomma però immagino che per un imprenditore avere anche il supporto del mondo scientifico in quello che è una intuizione forse è un bel supporto insomma al di fuori dell'attività professionale dell'azienda artigiana che ho per me il valore della ricerca della sperimentazione dell'innovazione è fondamentale è fondamentale non solo ripeto nella mia attività ma in tutto in tutte le attività sia produttive sia intellettuali se ci si sforza e si ottengono dei risultati originali allora ha un senso continuare l'attività a produrre e ingrandirsi altrimenti come dicevo prima si è poi destinati a rimanere nel limbo ci si fossilizza ci si fossilizza e forse è anche uno stimolo in più quello di sapere che al di là del guadagno che pur onesto e giusto che sia è necessario per sostenersi e per crescere è bello anche immagino dal punto di vista personale imprenditoriale aver fatto qualche cosa di utile per la propria comunità o di aver dato un contributo è una soddisfazione una soddisfazione mi immagino alla terza o alla quarta generazione non so a quale siete arrivati insomma la terza la terza per il momento e quindi sia anche bello vedere insomma poi che il frutto del lavoro dei propri genitori porti a questi risultati dottoressa siamo alle porte dell'estate abbiamo parlato di alimentazione di dieta questo è un periodo in cui voi siete un po' sotto stress molto bersagliati purtroppo ancora viene visto in questo modo il nostro lavoro quindi diventa un po' stagionale anche se per come lavoro io per la mia precedente esperienza anche di ricerca nell'ambito dell'università di Urbino lavoro molto con le situazioni patologiche quindi questo mi scardina un po' dai giochi delle stagioni non solo prova costume e questo mi dà più soddisfazione diciamo perché comunque eleva un po' il mio livello sono target un po' un po' diversi sicuramente sono più motivati ritengo che sia più importante stare dietro loro anche dal punto di vista motivazionale l'aspetto salutistico anziché quello meramente estetico per quanto c'è anche quello sempre bambini anche molti tra l'altro devo dire che sempre più famiglie si rivolgono a me e probabilmente anche a colleghi per dei piani alimentari familiari questo lo trovo molto bello insomma un progetto da farsi insieme certo quindi non solo siamo l'imputato di turno esatto deve buttare giù un po' di chi tutti tutti è giusto che tutti mangino santo non solo una persona della famiglia poi è più facile è più divertente bisogna anche cogliere l'aspetto piacevole di mangiare correttamente esatto sì perché vedere che tu mangi 60 grammi di pasta e gli altri si mangia tutto quello che vuoi è proprio come dire la dieta poi deve essere gratificante quindi bisogna trovare il modo di rendere anche le porzioni e scegliere le soluzioni giuste per mascherare tutto questo ricordiamoci che nella vecchia e vera dieta meriditerranea si mangiava con poco con poco intere famiglie numerose mangiavano veramente con pochi prodotti della terra e si riuscivano a sfomare non come facciamo adesso che insomma per noi il cibo è diventato un'esagerazione però comunque c'era un aneddoto dalle mie parti sono romagnolo sono cresciuto nella campagna cesenate che all'epoca insomma quando veramente forse c'era ben poco si appendeva la ringa con lo spago al centro della tavola e con il pane si strisciava la ringa non è che un po' di profumo bastava e colui che dava due tre passate in più del dovuto veniva redarguito pesantemente dicendo ma come ti vuoi abbuffare ne approfitti con due grattate in più questo adesso forse tra la leggenda è il vero però comunque dà il senso dà il senso di quello che era l'alimentazione per avere tutti questi utili consigli è raggiungibile dottoressa certo sono anche nei pressi di Fano ora sono nella zona di Bellocchi e quindi ha i suoi i suoi ganci comunque su facebook immagino uno faccia una ricerca o anche sui social la rintraccia sono molto attiva in quel senso è molto attiva bene insomma la divulgazione del corretto messaggio è alla base della nostra società invece per chi vuole gustare questa prelibatezza dove viene? a Fano sono diversi i punti vendita che trattano appunto il mio prodotto ce ne sono diversi adesso io non è il caso di fare l'elenco però si trovano però si trovano sì sì rivolgendosi poi alla sede casomai si forniscono gli indirizzi nominativi dei rivenditori ecco o se no si viene a posto si fa una passeggiata certo si vede un bellissimo borg meglio ancora meglio ancora e magari così si scambiano anche due parole con lei con i suoi operatori bene io vi ringrazio il tempo è sempre tiranno quando soprattutto le argomentazioni sono belle insomma vivaci e dense di contenuti quindi grazie a Mario Pierleoni Archilei della Casa del Pane di Fossombrone per averci portato questo pandorzo questo splendido frutto del lavoro ora facciamolo ripetere Mario Berluti se stringe sul prodotto fa vedere ecco vedete anche la crosta anche l'aspetto esteriore è bello devo dire che piace molto piace molto anche come gusto come gusto bene e ringraziamo anche la biologa nutrizionista la dottoressa Roberta De Santis che ci ha fatto così conoscere anche gli aspetti scientifici e salutistici di questo alimento e insomma è anche a disposizione per soccorrervi in caso di problemi di abete colesterolo e anche insomma di sovrapporto e quant'altro diciamo che e quant'altro non sorvoliamo sorvoliamo poi quindi va bene grazie buonasera e alle prossime anche a voi cari amici dopo cena vi ringrazio per essere stati qui con noi e averci seguito in questa puntata così gustosa e così salutistica ciao alle prossime arrivederci ciao a tutti arrivederci